Ciao a tutti amici di YouTube, oggi vi mostro un semplice file batch che consente di eliminare un qualsiasi programma dal computer in modo automatico senza intervenire con il classico metodo, ovvero pannello di controllo, programmi e funzionalità e via discorrendo noi però chiaramente lo facciamo per capire del codice mica per risolvere la velocità in questi passaggi comunque come si fa? Innanzitutto bisogna acquisire le informazioni riguardanti l'applicativo da disinstallare quindi apriamo il prompt dei comandi e digitiamo taskmgr, ovvero taskmanager una volta aperta la finestra gestione attività si guarda e si controlla qual è il processo che vogliamo terminare perché questo? Perché il programma se ha il processo attivo, quindi l'exe in esecuzione sarà difficile poterlo eliminare del tutto, Windows farebbe comparire il messaggio di dialogo che restituisce errore perciò riandiamo sul cmd per vedere come terminare completamente il processo dell'applicativo con tutti i sottoprocessi attivi scriviamo come linea di comando taskkill prima vediamone assieme la guida e poi incominciamo a scrupitare questa command line pretende tre parametri primo è la t che termina il processo specificato e tutti i processi figlio avviati dallo stesso il secondo parametro è la F che ne indica l'interruzione forzata e l'ultimo parametro è image name facente parte dei filtri apriamo ora il blocco note e scriptiamo la prima cosa che dobbiamo fare, ormai coi batch lo dovreste avere imparato, è impedire la visualizzazione dei messaggi poi, adesso viene il bello, da gestione attività abbiamo appreso che un ipotetico processo, file exe, incollonato qui ha un nome immagine di cui abbiamo per l'appunto preso, nome ed essenzione prendiamo ad esempio cmd.exe che indica chiaramente il prompt come si fa ad acquisire il percorso di questo elemento? bisogna cliccare semplicemente col tasto destro del mouse e apri percorso file una volta aperto si copia la stringa del percorso se il programma fosse installato nel computer una volta acquisito il percorso non dovremo fare altro che porre una condizione quindi if exist, il percorso che abbiamo copiato io ne metto uno a caso specifichiamo il nome del processo, ipotizzando di aver trovato nella gestione attività il processo avviato quindi sarà semplicemente necessario mettere il comando del o erase quello che cancella fondamentalmente il file della cartella di origine prima però bisogna terminare il processo con goto e una label, un'etichetta, che chiameremo start altrimenti, qualora invece non esistesse il percorso, tantomeno il file e poi exit che indica la necessità di uscire dall'interprete e chiudendo il file batch ora, avendo richiamato un'etichetta, bisogna inizializzarla due punti start una volta posta l'etichetta, sotto ad essa, si metteranno le linee di comando la prima cosa è terminare il processo, quindi task kill poi il filtro con image name equal perché accetta soltanto la e e la q, perciò eq che cosa il nome del processo? qualora lo trovasse, lo terminerà sicuramente sarà avviato invece se non fosse così, non succederà praticamente niente perché supponendo che non ci fosse un altro processo magari dello stesso sistema con lo stesso nome non terminerà nessun processo parametro t e f quelli che abbiamo visto a inizio video infine, grazie alle autorizzazioni amministrative scriviamo del all'interno dei doppi apici incolliamo il percorso precedentemente copiato non semplicemente il processo principale ma con tutte le sue estensioni quindi asterisco, punto, asterisco in modo forzato tutte le sottocartelle le quali non verranno eliminate ma verranno solamente conteggiati i files al loro interno fino in fondo all'albero senza chiedere consenza all'utente e in conclusione exit per uscire direttamente una cosa fondamentale che dobbiamo menzionare è che qualora ci fossero degli attributi particolari potrebbe essere necessario comprendere un'altra linea di comando che per puro e semplice sfizio e per mostrarvelo integrerò all'interno di questo file badge guardiamo la guida sul cmd la linea di comando attrib toglie gli attributi dai file si mette il segno meno per singolo attributo che verrà menzionato noi cancelleremo quello di sola lettura poi l'attributo ti sistema quello di file nascosto e il file non indicizzato quindi sul blocco note scriviamo attrib-r-s-h-i di nuovo incolliamo il percorso con tutte le estensioni infine elaboreremo non solo tutti i file presenti nella cartella e sotto cartella ma anche la cartella stessa quindi s e d lo script è terminato non ci resta che salvare con estensione .bat c'è un piccolo eventuale problema potrebbe anche essere che il programma si è installato in più cartelle come nell'app data e di conseguenza nel roaming quindi se si presenta il fatto bisognerà integrarlo questo equivale per tutte le cartelle sparse nel disco io ho fatto solo un esempio se non specificate i percorsi dove risiede il programma chiaramente quest'ultimo non verrà eliminato quindi nella riga dove abbiamo scritto del occorrerà aggiungere altre directory il video può finire qui ma siccome a noi piace supporre altri contesti immaginiamo che il file batch è stato creato con un differente scopo come ad esempio malware che ad accesso effettuato rimuove tutti i programmi installati nel disco e quindi come poter fare un'azione del genere inseriamo semplicemente il file in un'attività di pianificazione accediamo alla libreria e creiamo una nuova attività inseriamo il nome e spuntiamo sulla casella riguardo i privilegi questo essenzialmente vi permetterà di utilizzare il batch come amministratore tutte le volte in modo automatico ora creiamo una nuova attivazione impostiamo l'avvio all'accesso di qualsiasi utente non bisogna ritardare possibilmente anche se magari se ci fossero dei processi in coda potrebbe essere necessario ritardare di un minuto il file batch perché così il task kill possa terminare un processo che altrimenti potrebbe non essere ancora avviato comunque andiamo avanti ripeti attività ogni 5 minuti per una durata illimitata il resto lasciamo tutto stare com'è e facciamo su ok adesso nelle azioni possiamo elencare tutti quei file batch che abbiamo creato finora che ci occorrono per questa operazione qualora ce ne fosse soltanto uno non sarà un problema elencarne degli altri successivamente selezioniamo perciò il file desiderato su condizioni leviamo la spunta ad avvia l'attività solo se il computer è alimentato da rete elettrica perché vogliamo che sia sempre attivo appunto infine su impostazioni dove si spunta la seconda voce avvia appena possibile se un avvio pianificato non viene eseguito leviamo la spunta a questa voce e direi che è tutto a posto quindi ok l'attività ora è stata creata con i privilegi elevati bene per questo argomento è tutto ricordatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per il supporto e noi ci vediamo ad un prossimo video grazie a tutti